In sediolo Hortank, Baba Mattia Ricci, tanto passa favorita Nubiana Guasimo in chiusura, numero 10 con Enrico Dall'Olio, macchina che accelera e stacca. Partiti veloce Istrice Gianfi che conquista in breve il comando mentre sbaglia Nord Canale STT. Numero 3 Nord Canale STT squalificato. Sbaglia Meldola, si sistema in seconda posizione così Ophelia Jet. E dopo 200 metri, in vantaggio dunque Istrice Gianfi su Ophelia Jet. Mentre c'è in terza posizione Nice to meet you che ha colto ottima partenza. Quarto alla corda Olli di Marvi e via tutti gli altri, intanto 33 per Istrice Gianfi, 400 veloci. All'esterno si impegna Nubiana Guasimo con in schiena Nugo di Azzurra, via via tutti gli altri. Istrice Gianfi fa sempre andatura, quando siamo al completamento dei 600 metri. L'errore più indietro di Oliena, intanto 46 e 6 per il 600 Istrice Gianfi in vantaggio. All'esterno c'è Nubiana Guasimo che raggiunge in seconda posizione Ophelia Jet, mentre in terza c'è Nice to meet you con al largo Nugo di Azzurra. Ancora Nuvolor, percorsie esterne, intanto 1-1-7 per gli 800, Nubiana Guasimo è arrivata a ridosso di Ophelia Jet, ma non riesce a raggiungere Istrice Gianfi che completa il chilometro. In 1-17 esatto. Sposta Nice to meet you, va in schiena Nubiana Guasimo quando siamo a 500 dalla conclusione. Nubiana attacca con decisione Istrice Gianfi, l'impegna a 450 dall'arrivo. Sembra in grado di poter passare, Istrice Gianfi superato a 350 dall'arrivo, ma scatta Nice to meet you. Nice to meet you si porta su Nubiana Guasimo, la sopravanza in poche battute, prende in largo. Nice to meet you in nettissima evidenza al completamento della curva. retta d'arrivo con Nice to meet you in vantaggio, inseguito da Nubiana Guasimo. Gli altri nettamente più discosti, cappeggiati da Ophelia Jet. Finale con Nice to meet you che domina, secondo posto per Nubiana Guasimo al terzo. Ophelia Jet, 1-15-4, 29-4 la chiusa per Nice to meet you, portato al successo da Andrea Farolfi, il training è quello di Luciano Pasolini. Nice to meet you con ottima partenza e si assicura la terza posizione alla corda. Scatta i 500 finali per dominare una Nubiana Guasimo che se l'è fatta comunque tutta scoperta all'esterno. Viene così a vincere nettamente. Nice to meet you che ritorna così al successo con il sediollo Andrea Farolfi. Grazie. 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 Grazie.